Le possibilità dell'infinito 2.0 Questo è il titolo della mostra dedicata alla figura di Gustavo Adolfo Roll visitabile ancora fino a domenica 3 ottobre presso la sala del consiglio comunale di San Secondo di Pinerolo in provincia di Torino Una figura, quella di Roll, sensitivo, capace di prodigi apparentemente inspiegabili che ha un forte legame con il comune del Pinerolese che di recente gli ha addirittura intitolato la scuola media come ci spiega Nicola Gragnani tra gli organizzatori della mostra Quel legame con San Secondo è chiaramente strettissimo perché aveva la sua casa dove passava le vacanze è sfollato per esempio proprio a San Secondo e a San Secondo ha salvato da sicura fucilazione o da deportazione delle persone, dei partigiani del luogo A San Secondo Roll è una figura conosciuta, rispettata e anche automaticamente creduta in un certo senso Così tanto che qualche giorno fa si è intitolata per la prima volta una scuola statale a Gustavo Adolfo Roll e in altri comuni d'Italia nessuno, credo, nessun sindaco avrebbe il coraggio di farlo Un titolo, quello scelto per la mostra che racconta molto dell'attività delle facoltà di Roll e che con il termine 2.0 aspira a un'interattività della mostra stessa in grado di accompagnare la vasta oggettistica e la collezione fotografica esposta Oltre alle numerose foto arricchite da pannelli esplicativi c'è infatti una ricca collezione di oggetti, vestiti e dipinti dello stesso Roll che cercano di descrivere al meglio un personaggio assai complesso e controverso La mostra, la sua terza edizione dopo la presenza allo spazio Nizza a Torino e alla Reggia di Veneria punta a diventare un museo permanente in questi giorni ha ricevuto la visita di numerosi scolareschi riscuotente un buon interesse La maggior parte dei bambini, dei ragazzetti, dei ragazzini sono curiosi e sbalorditi poi quando ascoltano o leggono delle cose che poteva fare Roll naturalmente qualcuno è anche scettico qualcuno magari fa dei sorrisetti qualcuno non ci crede però anche quelli che diciamo hanno un atteggiamento scettico che è normale, che è naturale nella nostra epoca è giusto addirittura direi affidarsi al dubbio anche quelli pongono delle domande interessati cioè vorrebbero capire se veramente è possibile non so che si siano nel passato materializzate delle scritte su dei fogli scrivendo nell'aria o che si siano materializzate delle pietre facendo degli esperimenti di viaggi nel tempo Matteo Chiarenza, Radio Bayquit